Qualche anno fa ero nel nord del Brasile, sulla spiaggia. Avevo affittato una piccola stanza proprio in riva al mare. Il letto era proprio sotto la finestra. Era uno spazio bianco piccolo, con una finestra con i soli battenti. Un giorno, mentre ero distesa sul letto, quindi proprio sotto la finestra, a un certo punto la finestra si è spalancata. È entrato il cielo insieme a un viso totalmente aperto e gioioso di una bambina molto piccola. Aveva messo le mani sui battenti e aveva spinto in avanti. E mi ha lasciato stupefatta dentro lo spazio che ha portato, dentro lo spazio che ha aperto. Questo è il passaggio adesso. Da un piccolo spazio al quale siamo abituati, un piccolo spazio psichico, fisico, nel quale ci siamo abituati a vivere, che crediamo di allargare facendo, facendo, possedendo, ma che in realtà resta piccolo e passare finalmente a una dimensione grande, a una dimensione espansa.